Chi è la persona giusta per fondare una startup e nel caso in cui non dovessimo esserlo, come facciamo a diventarlo? Che cosa possiamo fare per aumentare le nostre possibilità di successo? Questa è la domanda che andremo ad affrontare oggi, anche se già vi anticipo che un identikit non c'è, ma ci sono una serie di linee guida che magari possono aiutarvi a sviluppare alcune caratteristiche che sono state riscontrate come tipiche nella maggior parte dei founder di successo. In questa serie vi cercherò di portare da 0 ad 1, appunto da persona che magari non conosce bene questo mondo, a founder che ha l'1% di possibilità di fallire in meno rispetto alla media e lo faccio basandomi su quelli che sono i consigli di esperti del settore, ma anche esperienze personali da persona che ha fallito come founder, ma che ha anche lavorato in diverse startup sia come consulente che come impiegato, dalla fase di pre-seed a invece aziende che adesso sono valutate oltre i 10 miliardi di dollari. Quindi venite con me in questo percorso che comincia dalla puntata di oggi, la puntata 0, in cui parliamo proprio di come facciamo a posizionarci in un modo che il mondo delle startup possa colpirci nella maniera giusta. Ecco, io la metterei così. Parto già con una brutta notizia, mi dispiace dirtelo, ma partire con semplicemente la mentalità del voglio lanciare una startup, voglio lanciare un'azienda, non è la cosa migliore da fare, probabilmente. Ci sono vari casi di successo di aziende che sono partite così, però allo stesso tempo, tendenzialmente, quello che vogliamo fare è invece partire dal problema. È una cosa di cui parleremo anche nei video successivi, in cui magari cercherò di darvi consigli su come trovare un'idea. Sicuramente proverò a darvi dei consigli pratici su come farvi venire delle idee, come scegliere tra varie idee che avete, ma in realtà al cuore di tutto c'è l'idea di immergervi in un problema, immergervi in una materia, immergervi in argomenti che vi interessano in maniera profonda, argomenti di cui non vi annoiate, su cui potete mettervi veramente a studiare per ore, giorni e non annoiarvi, e poi da lì cominciare a capire magari quali sono dei problemi che non sono affrontati da altre persone, da altre aziende, e cercare di trovare delle soluzioni a quei problemi. Questo è un processo organico che spesso è quello che porta a un tasso di successo maggiore tra founder e startup. Non sono sicuramente solo io a dirlo, è anche per esempio la politica di Y Combinator, che è il più grande acceleratore di startup al mondo. Se volete parliamo di acceleratori, incubatori qui, penso dovrebbe essere qua il video. e quindi questo sicuramente è la prima cosa da tenere in considerazione. Il consiglio che mi sento di dare, soprattutto se siete al liceo o all'università, è quello di vivere, di fare esperienza. Non è un caso se l'età mediana di chi ha fondato un unicorno, cioè una startup che è arrivata a essere valutata oltre il miliardo di dollari, in realtà è di 34 anni. Noi viviamo con questa idea dello startup a roventenne che fa successo, ma molto spesso non è così. Quelli sono degli outlier, dei casi speciali, che sicuramente rimangono impressi, che sicuramente fanno scuola, ma allo stesso tempo non abbiamo quest'ansia del dover cominciare subito a vent'anni e lanciare questa grande azienda di successo. Vivete, cercate di capire cosa vi interessa, immergetevi in quello che vi interessa e poi se avete la mentalità giusta, se siete persone curiose, se avete questa mentalità, magari anche un po' imprenditoriale, sicuramente questo aiuta, però incontrerete in maniera organica un problema che vale la pena risolvere e cercando la soluzione comincerete il processo di startup. Il problema vero di tutto questo è che appunto in realtà per fondare una startup di successo la cosa più importante che potete fare non è imparare come fondare una startup, ma è imparare di più o sul tema che trattate, sull'area di business in cui lavorate, sul problema che state cercando di risolvere, sul vostro cliente finale, oppure imparare skill che vi servono per creare il prodotto, distribuirlo, venderlo, eccetera, eccetera. Quindi io sono qui a darvi i consigli da una parte, ma il lavoro più grande, il lavoro più importante verrà fatto da voi, verrà fatto in queste aree qui che vi ho spiegato, magari in alcuni video sicuramente parlerò anche di come distribuire il vostro prodotto, come crearlo, come iterare, però ecco la parte invece di conoscenza del vostro ambito, dei vostri clienti, beh, quello è il lavoro che dovete fare voi sul tema che avete deciso di affrontare o che deciderete di affrontare. Quindi l'aspetto interessante di essere giovani e di usare questo tempo per godersi alcune esperienze della vita che magari ancora dovete fare è che non solo avrete più possibilità in maniera organica di incontrare un problema effettivamente importante da risolvere e poi portare avanti tramite la vostra azienda, ma anche il fatto che farete esperienza che vi arricchirà come professionista e per esempio conoscerete persone che saranno degli ottimi compagni di viaggio. Se non avete persone in mente con cui vi piacerebbe lanciare una startup, per esempio, se non avete potenziali co-founder, quello secondo me già è un ottimo segno del fatto che magari non siete pronti perché dovete mettervi in situazioni, in realtà, che vi permettano di conoscere persone intelligenti quanto più di voi e che vi stimolano che volete avere al vostro fianco all'interno di una battaglia perché è molto difficile semplicemente in maniera rapsodica, randomica trovare delle persone che vi accompagnino in questo viaggio. Se vediamo, per esempio, la storia di Google, la maggior parte di tutte le loro prime assunzioni erano amici che hanno incontrato al college, persone sveglie ed è anche per questo che, per esempio, in America c'è tutto questo mercato delle università private come Stanford, sicuramente una rapina da tanti punti di vista però dall'altro se riusciamo a entrare in università top saremo circondate da altre persone che saranno ottimi impiegati di una nostra startup in futuro oppure persone che fonderanno cose interessanti, fighe e ci inviteranno a entrare a farne parte. Quindi fare network, conoscere persone è una delle cose principali da fare per prepararci a questo momento di fondare una startup vale se avete 20 anni, vale se ne avete 30, 35 insomma tutti siamo in situazioni diverse però in generale il modo ideale per posizionarci a questo evento a questo inizio è avere delle cose in cui siamo estremamente interessati in cui siamo esperti anche magari sia una cosa piccolina però dobbiamo avere la conoscenza decisamente superiore alla media su quel tema e dobbiamo avere un network che ci permetta di trovare facilmente persone di cui ci fidiamo che vogliamo avere al nostro fianco all'interno di questo percorso come professionisti e anche come appunto magari amici nel caso in cui si parli di co-founder quindi queste sono le parti più spirituali un altro aspetto sicuramente importante è quello finanziario cioè se fondate una startup tendenzialmente il vostro salario sarà molto molto basso per tantissimo tempo e quindi l'avere 19 anni e cominciare una cosa di questo tipo sicuramente da una parte aiuta perché a 19 anni avete molte meno spese e potete andare avanti con quello che in gergo viene chiamato ramen salary perché in america magari appunto ti compri il ramen quello da bollire a un euro e quindi è nata un po' questa idea però dall'altro lato avere già un minimo di stabilità finanziaria che vi siete fatti con i primi lavori per esempio è un ottimo cuscinetto che riduce moltissimo lo stress e lo stress sarà una delle cose più grandi più importanti da gestire da parte di un founder e quindi eliminare alcune di queste variabili sicuramente già vi può aiutare quindi il riassunto di questa prima parte è che fondare una startup e farlo presto sicuramente ha dei vantaggi anche perché è una cosa completamente totalizzante che vi prenderà una grandissima parte del vostro tempo della vostra giornata quindi farlo presto può essere sicuramente utile perché avete meno obblighi nei confronti della società mettiamola così non avete famiglia probabilmente non avete figli quindi ci sarà più tempo da dedicare a queste cose però allo stesso tempo non abbiamo questa fretta di fare tutto a 20 anni prendiamoci il tempo l'esperienza di conoscere cose persone approfondire passando poi a cose ancora più pratiche quindi proprio azioni concrete che possiamo fare oggi domani o tra una settimana per prepararci e diventare magari migliori imprenditori in questo ambito sicuramente lanciare una startup è un'ottima scuola vi insegni tante cose tramite gli errori che fate tendenzialmente i founder ascoltano i consigli poi li ignorano poi ci sbattono la testa e capiscono quindi questo è un ottimo processo di apprendimento ma come dicevamo non è una cosa per tutti è una cosa totalizzante e dovesse andare bene magari comincerete anche a scalare però poi non siete pronti come persone quindi è un processo veramente che può portarvi a burnout e tanti altri problemi quindi se non siete pronti per questo step ce ne sono vari laterali che secondo me da alcuni punti di vista possono essere anche meglio quello che mi sento di consigliare perché forse il percorso più diretto è quello di cercare aziende e startup che sono in una fase iniziale quindi magari non lo so 10 15 anche 5 impiegati dipende dall'azienda che sono comunque in fase di crescita qui starà a voi la difficoltà di trovare effettivamente startup di successo startup che hanno un'alta possibilità di farcela è molto difficile non ce la fanno gli investitori che lo fanno di professione immaginate voi però ecco cercare ambienti di questo tipo con persone che stimate con persone che pensate possano insegnarvi andarci a lavorare anche per due speech lo so che questa è una cosa molto dibattuta ma sinceramente io lo farei anche gratis se fossi all'inizio della mia carriera trovarmi in paypal trovarmi in google trovarmi in una di queste aziende chiaramente sono una su un milione però trovarsi in un'azienda di questo tipo anche se su scala minore agli inizi della propria carriera è un boost incredibile sotto tantissimi punti di vista però ecco io cercherei di mettermi a lavorare in uno di questi ambienti perché? perché intanto riusciamo a assorbire dai founder di questa azienda se siamo ancora in 5 in 10 l'interazione con i founder ci sarà tutti quelli che sono le cose che stanno apprendendo loro in quel momento riusciremo a conoscere altre persone come noi che sono interessate a questo mondo che sono altamente schillate che hanno tanta esperienza magari o che hanno poca esperienza ma sono sveglie faremo esperienza noi quindi nell'ambito in cui lavoreremo per questa azienda come sviluppatori come marketing come sales riusciremo già ad avere dei segnali su come fare quel lavoro e tutte queste esperienze riusciamo poi ad applicarle sulla nostra startup sia quando saremo noi a dover fare quelle cose o quando saremo noi a dover assumere per quel ruolo e quindi dobbiamo capire chi effettivamente sa farlo chi no dobbiamo sapere come dare feedback come dare delle linee guida quindi avere esperienza lavorativa in generale secondo me è molto importante se non riuscite a fare esperienza lavorativa in startup interessanti magari cercate aziende già più affermate anche quella può essere un ottimo inizio però ecco in generale cercherei di trovare cose simili a quelle che vorrete fare voi perché ci saranno tanti vantaggi aggiuntivi un'altra cosa utile di lavorare in generale perché secondo me ha sempre senso fare almeno una due tre esperienze lavorative prima di lanciare qualcosa è che avrete un feeling molto migliore di quelle che sono le dinamiche di lavoro anche dal punto di vista degli impiegati cioè dovesse scalare la vostra idea magari riuscite a crescere il vostro team 15-20 persone dovete essere in grado di in maniera magari facile mettiamola così individuare pattern e indicazioni su come stanno andando le cose all'interno di un certo team tra varie persone quali possono essere le dinamiche anche capire magari come assumere meglio ci sono delle sfaccettature di dinamiche aziendali che secondo me si capiscono solo se siete dentro a delle dinamiche aziendali altrimenti sono molto difficili da spiegare difficilmente un corso di management un corso di business riesce a inculcarvi bene queste cose ci sono altre cose che sicuramente fanno molto bene ma molto va vissuto sul campo un'altra cosa se magari siete ancora all'università e vi sta totalizzando io vi consiglierei comunque di cercare delle internship esperienze lavorative però non dovesse essere un'opzione per qualche motivo la cosa buona è quello di cominciare a creare attività gruppi progetti quindi secondo me progetti personali è assolutamente un'ottima idea progetti personali che possono essere canali youtube su un tema preciso perché? perché vi forzano ad approfondire a imparare a essere curiosi un po' come dicevamo all'inizio oppure blog oppure magari siete sviluppatori e quindi volete farvi un piccolo progettino che può essere l'app calcolatrice sul telefono magari lavorando su questo tipo di progetti incontrerete dei problemi che nessuno ha risolto che non sono risolti in maniera adeguata e quindi senza saperlo lo starete trasformando in una startup che però magari all'inizio parte con una velocità ridotta quindi avrete più tempo per imparare e crescere insomma assolutamente questo è un ottimo step se non siete pronti per andare a lavorare da qualche parte l'altra parte di gruppi di attività magari all'università secondo me è estremamente interessante intanto perché vi può aiutare anche con la vostra vita sociale conoscerete persone interessanti per crescere come individui ma allo stesso tempo come dicevamo prima vi permette anche di conoscere altre persone che poi in futuro potrebbero essere i vostri impiegati i vostri co-founder o anche persone semplicemente con cui vi confrontate su base giornaliera settimanale mensile su quello che sta succedendo e possono darvi dei consigli un po' più diretti perché sono persone che conoscete di cui vi fidate questo secondo me anche è importante cioè crearsi una rete di persone con cui interagire nel caso in cui abbiate bisogno di aiuto ma che magari sono al di fuori della vostra azienda quindi io spero che questa puntata zero vi sia stata utile come dicevo all'inizio in questa serie poi parleremo di come trovare idee come trovare founder come trovare come scalare come trovare investitori tutte cose che sicuramente sono utili a chi sta facendo startup che appunto cercheranno di ridurre il vostro tasso di fallimento dell'1% però molto del lavoro la maggior parte del lavoro deve essere fatto da voi sull'ambito in cui state lavorando grazie alla vostra curiosità passione intelligenza intuito quindi spero che questo video vi sia stato un po' di ispirazione purtroppo come dicevo anche all'inizio non c'è un identity kit non c'è la persona che va a scuola di business oppure la persona che fa sviluppo web e impara questi framework no tendenzialmente la cosa migliore è andare su quello che vi incuriosisce e avere una passione che sia di più della semplice passione delle startup per fare startup sicuramente dovete essere interessati appassionati anzi neanche dovete esserlo però aiuta ad essere appassionati di questi temi ma dovete unire questo ad altre curiosità altri interessi a meno che il vostro prodotto non sia veramente concentrato sul risolvere il problema di startup ma vi anticipo che queste sono veramente pessimi clienti perché falliscono molto spesso possono pagare poco rompono le scatole quindi magari riconsidererei anche quell'idea lì un pochettino di più bene io spero come al solito che questo video vi sia stato utile tutti i link fonti considerazioni potete trovare di più in descrizione e noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao